Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. In autostrada, possibili disagi in Amuno e in uscita a Firenze Sud, proverando da Bologna e sulla Firenze Mare, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Prato Ovest e via 11 a 1, tutto verso Firenze. In Fipelli troviamo rallentamenti per traffico tra Montelupo e Ginestra verso il Capoluogo. A Firenze, rallentamenti sui viali di circonvallazione. Traffico intenso anche sulla direttrice Porta al Prato-Fortezza. Rallentamenti anche sulla via Senese, all'altezza del Galluzzo. Prima di salutarci, per il traffico ferroviario, l'Euronite 295 Monaco-Roma Termini sta viaggiando con mezz'ora circa di ritardo. Il transito ha chiusi Chianciano Terme al momento previsto alle 8.12, salvo recupero. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!